Sono Paolo Pallotti, sono tanti anni, 15-16 che frequento Isokinetic. Per manutenzione costante mi trovo decisamente bene. L'ambiente è molto accogliente e anche molto gradevole dal punto di vista della proiezione all'esterno. Non dovrei fare complimenti agli operatori perché sono molto bravi. Sono molto bravi, il fatto che lo ripeta è una prova. Io ho cominciato perché conosco da tanti anni il dottor Nanni e quindi le prime visite me le ha fatte lui e con lui abbiamo sviluppato un programma che non deriva tanto da incidenti, non ho patito mai incidenti, ma soprattutto un schiacciamento della zona intervertebrale che mi procura parecchi fastidi.